pesci è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà su un certo argomento e di capire che qualcosa decisamente non fa per voi forse questo è il momento piuttosto per prendersi una pausa per respirare profondamente entrare in uno stato introspettivo e guardarsi dentro inoltre per quanto riguarda la vostra vita sentimentale beh il consiglio è quello di dare un'opportunità alla relazione che avete di fronte o magari che potete creare in questo momento dedicate del tempo alla persona che amate alla persona con la quale in questo momento vi sentite tanto vicini dedicatele più tempo possibile conoscetevi cercate di entrare in sintonia sarà questo il segreto per per voi mentre invece per tutto il resto aprite gli occhi e cercate di capire che cosa esattamente non fa per voi e va eliminato